Luca Porro, non poteva esserci esordio migliore e soddisfacente, una gran squadra come Portoviro un 3-0 con due set nei quali li avete cancellati dal campo? Loro erano una squadra forte, sappiamo, costruita per far bene, per vincere tante partite però siamo stati bravi a partire subito forte, colpiglio giusto, con l'atteggiamento giusto con la voglia soprattutto di divertirci e penso che un po' questo abbia fatto la differenza un po' l'unità del gruppo Sì, una grande intensità in difesa, poi anche dal lato personale una serie di battute 10 nel secondo set, so che non le hai contate ma i ricettori di Portoviro assolutamente sì che hanno spaccato il set, hanno dato grande morale e poi avete giocato con una grandissima intensità No, ora faccio quello Salutiamo anche Carlo De Angelis Faccio quello che serve alla squadra, ora ha toccato a me delle battute consecutive può toccare ad altri battitori, grandi battitori perché siamo una squadra di bei battitori però ha toccato a me e sono felice, ha servito alla squadra, questo è l'importante Congratulazioni ancora al nostro MVP Luca Porro Grazie mille, ci vediamo al Palaprata Grazie mille Grazie mille